Buona veglia pasquale, vedete che avete delle candele in mano, le candele dovremmo accenderle e spegnerle. Vi chiediamo solo una piccola cortesia, le candele tenerle dritte e non tenerle piegate affinché non si macchino i banchi, altrimenti poi si roviano così anche i pavimenti. Una piccola accorgimento, grazie. E buona veglia a tutti quanti. E preghiamo e ricordiamo il Signore che per noi è risolto. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte, nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i Suoi figli sparsi nel mondo e raccolti per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e della partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla Sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del Tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del Tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali concedi a noi il desiderio del cielo perché, rinnovati nello Spirito, possiamo giungere alle feste dello splendore eterno. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Cristo, ieri e oggi. principio e fine alfa e tomega a Lui appartengono il tempo e i secoli a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli per mezzo delle sue sante piaghe gloriose a Lui la gloria a Lui la gloria a Lui la gloria e ci custodisca e ci custodisca e ci custodisca a Lui la gloria a Lui la gloria